Esattamente un anno fa la Lega era ancora stabile sopra il 30% in tutti i sondaggi politici. Le rilevazioni degli ultimi giorni danno il carroccio tra il 23 e il 24%. Nei numeri la fotografia della perdita dei consensi del partito di Matteo Salvini che, in una sintesi dei sondaggi 2020, risulta la formazione politica maglia nera dell'anno. Appartiene sempre al campo del centrodestra, il partito che invece si guadagna il podio in quanto a aumento di consensi, FDI di Giorgia Meloni. Una crescita che porta Fratelli d'Italia ad insidiare e spesso superare, nelle rilevazioni che si sono susseguite durante l'anno, il Movimento 5 Stelle strappando ai pentastellati il terzo posto dopo Lega e Pidi nei gradimenti. A inizio 2020, il partito della Meloni aggirava attorno al 10%. Negli ultimi sondaggi è stabilmente sopra il 15% e arriva quasi a sfiorare il 17%, secondo il sondaggio SWG del 15 dicembre, FDI è al 16,8% staccando di ben due punti ai grillini. Nell'ultimo Ipsos di Nando Palmeoncelli di sabato 19 le due formazioni erano di nuovo appaiate. Insomma, è un testa a testa continuo di rilevazione in rilevazione. I casi della Lega, in negativo, e quello di FDI, in positivo, sono però le uniche due sorprese del 2020. Per tutte le altre formazioni infatti l'andamento è stato pressoché stabile. I partiti della maggioranza non subiscono grandi variazioni rispetto al grande spartiacque che segnato l'anno, ovvero il prima e il dopo coronavirus. Nei mesi della prima ondata, in primavera, il governo e il premier Giuseppe Conte avevano alfato di molto l'asticella dei consensi ma senza che questo avesse un riverbero nelle percentuali dei partiti di maggioranza partendo dal secondo partito per consensi, ovvero il PD, il 2020 e il racconto di una sostanziale tenuta. I sondaggi di gennaio scorso davano demattorno al 20% e la stessa è la percentuale un anno dopo. Nel mezzo però ci sono diverse soddisfazioni per il partito di Nicola Zingaretti, un andamento positivo alle elezioni amministrative che si sono susseguite durante il 2020. A partire dalle regionali in Emilia-Romagna dello scorso gennaio dove Stefano Bonacini ha respinto l'assalto di Salvini alla Regione Rossa per eccellenza. E poi anche nella tornata autunnale, i dem hanno visto la riconferma dei loro presidenti in Puglia con Michele Emiliano e in Campania con Vicenzo De Luca. La vittoria di Eugenio Gianni in Toscana che, anche in questo caso, ha mantenuto la Regione a sinistra respingendo il tentativo di Salvini. Male invece nelle Marche per il PD che dopo anni di amministrazioni di centrosinistra ha ceduto il passo a Fratelli d'Italia? Ma anche le comunali sono state positivi per i dem. Dei nove capoluoghi tornati alle urne, cinque sono andati al Pidi, Chieti, Bolzano, Reggio Calabria, Lecco e Andria, un al Movimento 5 Stelle, Matera, due a Indipendenti, Crotone e Aosta, e uno soltanto al centrodestra, Arezzo. Grazie a tutti.